Ci siamo, l'aperitivo anche questa sera, siamo in giro per la città di Sondrio e ci siamo accorti che fa un filino caldo, un po' tanto caldo. Ci siamo avvicinate alla fontana per rinfrescarci e allora ci siamo chiesti ma è mai successo che a qualcuno questo caldo, con questo caldo sia andato un po' fuori di testa? A voi è mai successo? Scopriamolo con gli amici che incontriamo in giro per la città. Questo è l'aperitivo. Vi state godendo una giornata di sole, caldo. Sì, troppo. Troppo caldo? Sì. In Polonia non fa così caldo? No. Accidenti, dobbiamo tutti trasferirci in Polonia, veniamo noi da voi perché si sta meglio. Meno caldo? Meno caldo sì, ma meglio non credo. Quanto tempo è passato? Ieri sera. Ah, sei sclerata ieri sera direttamente? Quindi ti abbiamo preso proprio... Mamma, il caldo, la stanchezza, tutto. Oggi è addirittura uscita a prendere il fresco per fare in modo che non succeda ancora. Giusto? Sì. Ecco, apprezziamo la buona volontà di questa figliola, quindi ha già chiesto scusa e ti ha perdonato? Sì. La mamma è la mamma. La mamma è sempre la mamma. Grazie, ciao. Ciao. Una domanda veloce? Una sola. Una risposta velocissima. Il caldo può dare alla testa? Sì. Sì? Sì? Con risposta così è fantastica. Ciao, buon lavoro. Secondo te il caldo può dare alla testa? Assolutamente sì. Perché dici questo? Perché è quello che sto sentendo adesso. Nel senso che tu stai uscendo un attimo e esplodi? Più o meno. Mi allontano, mi metto dall'altra... Scusami, volevo allontanarmi. Secondo te questo caldo può fare uscire di testa qualcuno? Beh, me di sicuro, sì. Tu sei una che è già uscita di testa questa magia? No, no, no. Lo dici così per dire, però secondo te qualcuno può sclerare con questo caldo? Sì, può darsi. Questo caldo, il caldo, può dare fuori di testa e impazzire qualcuno? Certo, me e lei. Tutte e due? Sì. Insieme? È pericoloso, ragazzi? Cioè, è già successo? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Ma no, dai, non può funzionare così. No, dai, stai scherzando, non tutti i giorni. No, vabbè, ci sono momenti in cui fa più caldo e... Stai un po' più di matto, se vai a farti un bagno stai meglio, ovviamente io in questo momento preferisco essere un posto un po' più fresco.